Faccio un esempio, l'esempio classico che si fa in Ethereum per spiegare. Allora, le assicurazioni. Io sono un contadino e faccio l'assicurazione che se mi piove tutto agosto, mi va in malora il grano, quello che è, e ricevo 10.000 euro di premio, non a premio, di internet, scusate. L'assicurazione normale dice, beh sì, ha piovuto però il 29, ha piovuto un po' meno, per due ore non ti do i soldi, no? E tu sei alla merced dell'assicurazione, sappiamo qual è il problema con le assicurazioni. Con Ethereum è concepibile, ma non esiste ancora, ma è concepibile una cosa del genere. A me manda fuori di testa, non so se riuscirò a trasmettere questa cosa. Mi manda letteralmente fuori di testa. Allora, l'assicurazione è nella blockchain e c'è quello che si chiama smart contract, cioè un programmino che dice, il contadino paga il premio, giusto, scusate, paga il premio di 100 euro e li mette, li blocca lì nello smart contract. Sono bloccati, non li ha dati a nessuno, li ha messi là, ok? L'assicurazione blocca 10.000 euro nello smart contract, che rimangono lì per un anno, e quindi ci sono questi 10.000 euro dell'assicurazione che sono bloccati nello smart contract. Non esiste una persona nel mondo che li può prendere. Sono al di fuori del controllo di una persona, ok? Sono controllati da questo software. Questo software, in questo momento qua vado fuori di testa, si connette a internet e verifica 5 siti di meteo, o 50, non importa, e guarda se ad agosto ha piovuto tutti i giorni. Ok? Ora, per falsificare questa cosa dovresti controllare tutti questi 50 siti di meteo, che diventa impossibile, o 500, non lo so. legge che ha piovuto 30 giorni ad agosto e manda i soldi al contadino. Eh, io qua vado fuori di testa, non so voi se mi avete perso. Cioè, abbiamo tolto alle persone il controllo di questa cosa. L'abbiamo resa, l'abbiamo data alla matematica, si dice, ok? Non è che l'abbiamo data al matrix, al calcolabilità, comunque a qualcosa di oggettivo immodificabile. Se qualcuno volesse modificare quello smart contract, sarebbe come andare a cambiare quei sei libretti, per capirci. Richiede uno sforzo? Impossibile.